Ciao bimbi, come state? Tutto bene? Io oggi sono in ottima compagnia perché dopo la favola che vi ha raccontato la maestra Narita e la maestra Claudia, io e la maestra Franca abbiamo ben pensato di fare un bellissimo lavoretto. Andremo a preparare il re leone. Siete contenti? Ci servirà un po' di materiale. Ci serviranno dei pennari agli colorati, della colla, delle forbici, degli occhietti mobili e dei gattoncini. Adesso passo il tutto alla maestra Franca che vi farò vedere come fare. Maestra, tieni! Avanti e indietro in questa maniera. Formando tipo una fisarmonica. Ripetiamo questo movimento ben due volte. Con la pistola a caldo, facendo di aiutare la mamma, andiamo a incollare le parti. Vedete, bimbi? Sempre con l'aiuto di mamma. Ecco così i bimbi, vedi? Adesso con il cartoncino giallo andiamo a disegnare un cerchio che andremo a ritagliare. Adesso lo incolliamo in questa maniera prendiamo gli occhietti disegniamo il nasino ecco qua Opla Il vostro leone è bello? Allora, bimbi, vi è piaciuto il lavoretto? Io immagino che sarete bravissimi. Inviateceli a io voglio vederli tutti. È vero, maestra Franca? Inoltre, ricordate che se non avete dei cartoncini potete farlo con dei fogli da stampante li rubate a papà o a mamma e anche gli occhietti se non avete gli occhietti mobili quelli che vi piacciono tanto potete disegnarli è tutto molto semplice allora vi aspetto vi mando un abbraccio ciao ciao